Buongiorno a tutti, signore e signori, sono Ronnie Rapone Polverige, qui in diretta esclusiva mondiale interplanetaria, unica al mondo, molto probabilmente, di benessi con la casa del grande aggello. E ricordati di mettere un bel in testa se non fa mancare tu e tutti gli altri. Ed ora ci devono collegare con il nostro amico Anconetano, Ricky Sanagiotto, che ha dei problemi, non ha dei problemi, sentiamo perché, perché Ricky cosa c'è che non fa? Oh, ciao bene, so che sono giusto con la mia, eh, da ancora, ci sono da sotto perché io cioè sono stato qui, in cucina, preparati, l'ho rullato tutto quanto e a me non lo faccio, oh, è una roba che non lo sapevo, sì perché al camastere le faccio vedere, sto qua a fumarmi il cannello, il cannello, oh, e non lo faccio, ci sono da sotto, vi giuro che ci vado sotto, guarda, come se è una roba che lo lascia un po', piace, attestatevi, questi brilli, questi cani.